Giacomo Cuzzi, Assessore ai grandi eventi del Comune di Pescara. La novità all'indomani delle feste di Natale è che il 1 gennaio Pescara inizierà il 2019 con il concerto del cantautore Daniele Silvestri. La nostra città si conferma tra le piazze più belle d'Italia. Abbiamo annunciato anche il concerto del 1 gennaio con questo grande artista Daniele Silvestri, questa volta in Piazza della Rinascita a partire dalle ore 18. Ci aspettiamo tantissime persone provenienti da ogni parte d'Italia e inaugureremo il 2019 al meglio. Poi ci sarà il grande concerto del 31 dicembre, questa volta nell'area antistante la stazione centrale conosciuta dai pescaresi come l'area di Risulta. Un grande spettacolo. La città è già sold out, quindi abbiamo il pieno negli alberghi e nei ristoranti e queste manifestazioni ancora una volta aiuteranno l'economia della città. Noi abbiamo investito molto sul turismo in questi anni anche grazie all'organizzazione di questi grandissimi appuntamenti che hanno portato la nostra città a primeggiare a livello nazionale come la classifica del sole 24 ore ci vede al settimo posto appunto per l'organizzazione e la riuscita di questi straordinari appuntamenti. Siamo passati dal 2015 al 2017 da 188 mila presenze turistiche nelle strutture alberghiere alle oltre 250 mila e per il 2018 i dati sono ancora a rialzo e questo fa sorridere la città e ci porta ancora di più ad investire su queste grandi manifestazioni. A proposito del concerto invece del 31 dicembre con J-AX, lo ricordavamo nell'area di Risulta, concerti tra l'altro gratuiti sia quello di J-AX che di Daniele Silvestri, vi state già organizzando anche a livello di traffico la viabilità come cambierà in vista del concerto del 31? Sì, ci sono delle modifiche, innanzitutto abbiamo dovuto spostare la location e quindi si farà nell'area antistante la stazione ferroviaria, avremo Corso Vittorio Emanuele chiusa, una volta saturo il parcheggio nella parte sud dell'area di Risulta, quindi dall'altezza di via Genova e poi sarà chiusa da Corso Umberto fino all'incrocio con via Michelangelo, via Michelangelo sarà percorribile invece solamente a un senso, quindi nel tratto direzione dal mare verso i monti e avremo chiusa via Bassani-Pavone, cioè la strada che passa tra l'area di Risulta e la stazione che sarà percorribile solamente per gli autobus e i taxi.